Aggiornamento importante. Alcuni giorni fa ho ricevuto notifica del procedimento penale a mio carico riguardante querela per difamazione presentata da Roberto Burioni a seguito del nostro esposto collettivo per abuso della credibilità popolare e per esercizio del mestiere di ciarlatano. È stato proposto un tentativo di conciliazione al quale ho replicato il giorno stesso attraverso i miei legali di feducia con un no grazie. Andiamo a processo, a testa alta. Tengo a precisare, a scanso di equivoci, che il tentativo di conciliazione è promosso dal pubblico ministero e non mi risulta che il querelante abbia dato corso ad una simile iniziativa che comunque verrebbe qualunque ne fosse la provenienza rifiutata perché sarà un dibattimento a stabilire se mai difamazione è stata commessa. L'ho già detto e lo ripeto anche in questa occasione. Se pensa di intimidirmi con azioni legali e denunce non ha minimamente capito con chi ha a che fare. Se volete partecipare all'iniziativa collegatevi al sito www.difendersiora.it